Nelle lezioni di oggi ci occupiamo ancora una volta delle tendenze culturali, letterarie e artistiche che invassano l'Europa tra la fine del Settecento e gli inizi del Milleottocento. Sull'argomento, in particolar modo sul neoclassicismo, avete già avuto modo di seguire una video-lezione abbastanza approfondita, molto interessante del professore Gaudio, però su questo argomento vorrei tornare un attimo perché comprendere le tendenze letterarie della fine del Settecento e dell'Ottocento significa, degli inizi dell'Ottocento significa riuscire poi a comprendere le caratteristiche dei grandi autori di cui ci occuperemo quest'anno. Il primo dei quali, Foscolo, Ugo Foscolo, misura sicuramente minore a Manzoni, che possiamo inserire a tutti gli effetti un autore romantico, ma anche Giacomo Leopardi. Le tendenze di fine Settecento sono sostanzialmente due, sono il neoclassicismo e il preromanticismo. Queste due tendenze culturali sono apparentemente tra loro antitetiche, a prima vista possiamo dire anche inconciliabili, nel senso che il neoclassicismo sembra fondarsi, si fonde in effetti sulla nuova riscoperta, esaltazione della classicità, laddove invece il preromanticismo anticipa le caratteristiche poi del romanticismo maturo e si fonda sulla passionalità, sull'esaltazione dell'interiorità e dell'originalità, di una poesia, di un'arte, di una letteratura moderna che non ha bisogno di modelli da imitare perché è lo specchio di tempi nuovi, della modernità appunto. Dicevamo che questi due movimenti sembrano apparentemente antitetici, lontanissimi, in realtà hanno una radice comune. Questa stessa radice, possiamo dire così, consiste nella reazione all'illuminismo, sia il preromanticismo sia il neoclassicismo sono in effetti una reazione alla visione utilitaristica della letteratura, dell'arte tipica del Settecento illuminista e sono il frutto anche della disillusione, ossia alla fine del Settecento, ancora all'inizio dell'Ottocento, divenne ormai evidente che quegli ideali che avevano animato le coscienze degli uomini nel Settecento, libertà, uguaglianza, fraternità, non avevano poi effettivamente cambiato veramente il mondo. E quindi la delusione degli intellettuali, degli artisti, provoca sostanzialmente il distacco dall'impegno civile, il rifiuto della storia e la fuga, possiamo dire, in un mondo diverso, la fuga dal reale e questa fuga può essere o la fuga nel passato, nella classicità, o la fuga nella dimensione, possiamo dire così, dell'interiorità e del sogno. Questo spiega perché delle tendenze così diverse, come appunto il neoclassicismo e il preromanticismo, possono tranquillamente convivere in autori come per esempio Foscolo, il quale fu autore, lo vedremo nella prossima lezione, di opere di gusto decisamente neoclassico e contestualmente di opere invece di gusto decisamente preromantico, se non addirittura romantico. Si suole individuare due aree geografiche diverse, nel senso che di solito si considera patria del neoclassicismo l'Italia e la Francia, soprattutto l'Italia in realtà, anche se bisogna dire che il neoclassicismo, come avete avuto già modo di studiare, di leggere, nasce in Italia per impulso di studiosi stranieri, in particolar modo tedeschi, che furono tra i primi a riscoprire in un certo senso le bellezze archeologiche, artistiche dell'Italia, che l'Italia in un certo senso aveva anche dimenticato. Mentre come patria del preromanticismo si suole individuare il nord Europa, in particolar modo l'Inghilterra e la Germania. Questo non significa comunque che poi sia possibile distinguere geograficamente o cronologicamente il neoclassicismo e il preromanticismo perché sostanzialmente si tratta di due tendenze artistiche letterarie che per molto tempo si sovrappongono e che si sovrappongono anche in uno stesso autore. Al centro dal neoclassicismo c'è l'esaltazione del bello artistico, del bello classico, ossia l'esaltazione di quegli ideali di grazia, armonia, semplicità che abbiamo visto essere gli ideali a cui aspirava per esempio anche l'arte rinascimentale. Tra le tendenze che possono essere ascritte al cosiddetto preromanticismo dobbiamo sicuramente includere l'ossienesimo, cioè la cosiddetta poesia sepolcrale che nasce sulla scorta dei canti di Ossian scritti appunto da MacPherson e che non mancheranno poi di influenzare tutto un lungo ampio ben rappresentato filone letterario fino addirittura, potremmo dire, ai sepolcri di Foscolo che pure nascono sotto la spinta di istanze, di esigenze che potremmo definire contingenti. E poi lo Sturm und Drang, traducibile come impede e passione, questo movimento tedesco, spero di aver pronunciato correttamente, che esalta la natura come forza grandiosa e potente, che esalta il carattere nazionale e patriottico dell'arte, che presenta una figura d'artista intesa come genio creatore, che non ha bisogno di modelli da seguire, non ha bisogno di regole, ma che segue appunto le emozioni e i sentimenti. Il neoclassicismo vi alleggerò poi il PowerPoint con tutta una serie di piccole pillole, piccole videolezioni anche molto carine, stimolanti sul neoclassicismo, per esempio il bignomi, quindi appunto il neoclassicismo e il pillole, ma come sappiamo, sul neoclassicismo ci siamo già soffermati in realtà ampiamente sia in classe sia nella videolezione precedente. Quindi vado così un po' velocemente, sappiamo si sviluppa tra la fine del 700 e l'inizio dell'800, durante la rivoluzione francese e nell'età napoleonica e proprio sotto Napoleone Bonaparte conosce uno straordinario successo per motivazioni diverse, tra cui anche la volontà di Napoleone Bonaparte di ricollegarsi alla grandezza dell'impero romano. I motivi e le suggestioni che portano alla nascita del neoclassicismo sono diverse. Come vi dicevo poco fa è una tendenza culturale, artistica e letteraria che ha sicuramente il cuore, il proprio centro in Italia, ma che nasce per impulso di studiosi stranieri, in particolare il tesso che possiamo dire così da avvio al neoclassicismo nel 700 è la storia dell'arte e dell'antichità di John Wilkeman, che sicuramente possiamo considerare appunto il padre del neoclassicismo. Sicuramente tra gli avvenimenti che favorirono l'avvio di questa tendenza culturale vi fu la riscoperta di Ercolano e Pompei e queste città dell'antica Roma che erano state seppellite dall'eruzione del Vesuvio e che vennero appunto riscoperte intorno al 1740 per influsso di Carlo III di Borbona. L'impressione, l'emozione che suscitò la possibilità di poter rivedere delle città antiche nella loro interezza fu incredibile. Insomma, naturalmente colpì molto l'immaginario collettivo del tempo, non solo gli italiani, soprattutto gli stranieri. Non è un caso che l'Italia divenne una delle mete principali del cosiddetto Grand Tour, cioè di questi Erasmus, possiamo dire così anteliteram, cioè di questi viaggi culturali che i giovani aristocratici, benestanti europei facevano per completare la loro formazione culturale. La meta principale appunto dei giovani europei fu l'Italia e Roma, in particolare anche la Campania, anche appunto Pompei, Ercolano e Napoli. Come vi dicevo, il neoclassicismo trova straordinaria corrispondenza con gli ideali della rivoluzione francese, i cui esponenti ammirano i classici per i loro ideali di libertà, democrazia, quindi viene esaltato il mondo dell'antica Grecia, ma anche della Repubblica Romana, e poi appunto sotto Napoleone Bonaparte, che vuole far rinascere, vuole riallacciarsi all'antico impero romano, a quel sogno di grandezza che era stato appunto della Roma Antica, vuole fare il suo con il sogno di grandezza che era stato dell'armontica. La di Wilkeman l'abbiamo anche detto, così come di Pompei e di Ercolano, e abbiamo anche detto appunto del Grand Tour. Nel PowerPoint troverete questa lettura che vi consiglio di fare sugli effetti che la riscoperta di Pompei e di Ercolano agli inizi degli scavi in questi territori determinarono nel 1700 e di seguito alcune delle opere più belle, più significative, più rappresentative della letteratura, scusate, della scultura neoclassica. Che cosa accade in letteratura? Vado un po' velocemente perché mi restano soltanto tre minuti per questa videolezione. Allora, il neoclassicismo in letteratura si caratterizza per la ripresa, riscoperta di miti provenienti dal mondo classico. Una delle opere più esemplificative in questo senso sono per esempio Le Grazie di Ugo Foscolo. Il linguaggio delle opere neoclassiche si fa estremamente ricercato, ricco di latinismi e di grecismi, e una tendenza che si insolita in questi anni è la traduzione dei poemi antichi. C'era il berri, ma a questo proposito, è la traduzione dell'Iliade, che qui per errore è scritto minuscolo, operata da Vincenzo Monti. In realtà Monti non volle semplicemente, come posso dire, limitarsi a fare una traduzione del poema numerico, ma cercò di creare esso stesso un nuovo capolavoro, in qualche modo cercando di careggiare anche col modello per tono, per stile e per eleganza. La traduzione di Liliade di Monti è stesso un capolavoro, non è un caso che il poemio venga ancora oggi utilizzato in tutte le antologie di epica delle scuole medie e delle scuole superiori, e che questa traduzione di Liliade sia stata per moltissimo tempo sostanzialmente Liliade in italiano per eccellenza. Al neoclassicismo rimandano anche le tragedie di Alfieri, di Dottorio Alfieri, che può essere considerato un romantico sicuramente per la passionalità del suo animo, per i temi che affronta nelle sue opere, ma che è assolutamente poi neoclassico per il lessico, per la ricercatezza dello stile, per la ripresa di miti, sia del mondo classico in realtà, sia anche biblici. Infine Gofoscolo, che forse è l'autore più esemplificativo di questo periodo, perché assomme in sé tutte le tendenze della fine del Settecento e inizio dell'Ottocento, ed è sia neoclassico sia preromantico, ma sicuramente le grazie a Giacinto rimandano per molti versi dell'Ottocento, ma sicuramente le grazie a Giacomo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.